Allora ragazzi abbiamo adesso il Secret Service, un gruppo complesso svedese che stanno qui con noi a Popcorn per presentare l'ultimo 45 giro. Prima hanno avuto un grande successo con Oh Susie, speriamo che questa volta con Flash in the Night la provano la stessa cosa. Allora Secret Service, Flash in the Night, un bel applauso! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!